È stata una giornata fantastica, ma andiamo a rivivere insieme quelli che sono gli highlights di un match imperdibile. E tu naturalmente, come hai iniziato a questa avventura di sogni, tu avessi tutti i nostri aspetti. Tu avessi ogni tipo di piacere, e dopo alcuni giorni di 75 anni di totali piacere, tu diria, che è stato molto bello. Let's have a sorpresa, let's have un sogno che non è sotto controllo. La cosa che mi ha fatto, non so che cosa sarà. E tu avessi che, e venirei da quella e direi, wow, è stato un po' di riscaldanza, non? E poi, tu avessi più e più avventure, e tu avessi più e più avventure, e tu avessi 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 tutto, solo tu avessi non. Grazie a tutti.